e bentornati amici di radio dream on fly la radio dedicata agli imprenditori io sono sempre vostro stefano e quest'oggi come ogni giovedì siamo in compagnia dell'avvocato armando francia ciao e bentornato armando grazie stefano grazie mille buona giornata a te a tutti quelli che ci ascoltano grazie mille davvero come stai armando tutto bene tutto bene oggi anche una bella giornata c'è il sole ce lo vogliamo pare che nel weekend ci sarà altra pioggia quello ormai è normale durante la settimana lavorativa c'è il sole il weekend ma poi non è che possiamo lamentarci perché non piove quando piove perché piove troppo prendiamo quello che viene assolutamente sì assolutamente allora armando oggi andiamo a parlare di un di un argomento che forse io non avevo mai sentito parlarne in giro diciamo principalmente nei film no sai quando quando ti arrestano e ti dicono no io non l'ho mai sentito cioè boh meno male che non l'ho mai sentito in verità e parlo solo in presenza del mio avvocato qualcosa del genere no bravo sì è l'interrogatorio esatto esatto l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini cioè l'interrogatorio dell'indagato sì oppure dell'imputato se quello avviene nel processo esatto faccio una piccola premessa non è un istituto che a me piaccia particolarmente ok perché con l'interrogatorio sostanzialmente l'accusa cioè il pubblico ministero vuole cercare degli elementi di colpevolezza sì quindi se io confesso no mi credono di solito mi credono se io invece racconto che quel giorno ero che ne so a casa a dormire nessuno mi crede ovvio e allora è sempre un istituto che a me ma credo in generale agli avvocati non piace tantissimo proprio perché tende a cercare la colpevolezza di quello che tu difendi ok e allora spesso e volentieri uno consiglia al proprio assistito di come si dice avvalersi della facoltà di non rispondere così si fa un pochi danni ok questa è la premessa iniziale assolutamente sì però cioè quanto è importante veramente la figura di un avvocato durante un interrogatorio e cioè che cosa fa poi durante guarda è importante prima dell'interrogatorio ok allora diciamo così se il cliente vuole rispondere ovviamente no molto facile dura due minuti e via se il cliente vuole rispondere è molto importante prima perché bisogna ovviamente preparare il cliente a rispondere alle domande del pubblico ministero della polizia giudiziaria ok e allora bisogna agire un po di fantasia e pensare a tutto quello che potrebbe venire fuori nel corso dell'interrogatorio appunto e quindi le domande che potrebbero farti quindi sostanzialmente programmare già una sorta di di risposte di risposte tendenzialmente favorevole no favorevole a te stesso considerando che l'indagato e l'imputato hanno tutto il diritto di mentire di raccontare balle a me certo perché nessuno nel sistema italiano può imporre all'indagato e all'imputato di giurare di dire la verità come invece capita ai testimoni la differenza c'è proprio lì il testimone è obbligato a dire la verità l'indagato o l'imputato invece può anche non dirla ok perfetto ma l'avvocato può rispondere al posto del dell'interrogato sostanzialmente cioè quindi l'interrogato non parla generalmente no ok generalmente no bisogna distinguere due passaggi fondamentali il primo è quello relativo alle generalità che l'indagato l'imputato deve declinare al momento dell'interrogatorio chi sei come ti chiami dove vivi se sei sposato sei ricoperto cariche pubbliche se hai subito procedimenti penali o se sono in corso procedimenti penali spesso e volentieri in questi casi l'indagato non un po' per vergogno un po' perché se l'ho dimenticato un po' tende a dimenticarsi alcuni aspetti soprattutto relativi ai procedimenti penali e quindi poiché è un reato mentire sulle proprie generalità e dire cose false in questa fase allora l'avvocato lo aiuta a ricordarsi che no non è vero che sei incensurato perché sette anni fa hai avuto una condanna per furto perché l'ho letto nel tuo certificato penale quindi in quel momento lo si aiuta per evitare che dica cose stupide e sbagliate sul fatto in sé tendenzialmente una volta che risponde risponde lui ecco l'avvocato può chiedere a precisazione può fare delle domande che vengono riportate nel verbale come domande della difesa in modo tale che chi legge poi un domani quell'interrogatorio a piena contezza del fatto che alcune domande sono state poste in essere dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in seconda di chi interroga e altre da parte del difensore e altre ancora magari sono spontanee dichiarazioni rese senza nemmeno la domanda ecco ok perfetto ti chiedo una roba dato che ne sento anche parlare apriamo una piccola parentesi che poi riguarda anche questa parte qua ma in generale quando compiliamo delle cose viene sempre fuori che cosa vuol dire sta roba e cosa comporta se hai svolto cariche pubbliche cariche pubbliche sono sostanzialmente quelle elettive quindi sindaco, assessore ok se vuoi aggiungere anche che sei alle dipendenze del comune di Pincopallino va benissimo ok o della regione o della provincia di o della città metropolitana quello che è sì 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 o dell'arbre le cariche pubbliche però di regola sono quelle elettive ok però c'è cosa c'è se io scrivo sì cosa c'è non cambia nulla no non cambia nulla ma dipende perché faccio quella domanda facendo parte del adesso parlando di interrogatori e roba varia no io sono stato arrestato adesso mi fanno interrogatorio per una cosa totalmente diversa da questa no però io dieci anni fa sono stato sindaco di Pincopallino non cambia nulla se io dico sì sono stato sindaco no ok dipende sempre da che reato ecco è chiaro che se hai non lo so se hai sequestrato una persona o spacciato droga o un conto se hai commesso reati che riguarda la pubblica amministrazione può essere interessante il fatto che tu dieci anni fa hai fatto il sindaco di una pubblica amministrazione ok no era sempre perché me la sono sempre chiesta sta domanda qua e l'hai tirata un attimino in ballo tu dicendo due cose quindi hai detto boh chiediamo un attimo per curiosità molto più interessante invece è le condanne cioè i processi già subiti e i procedimenti in corso ah beh quello sei sicuro da quelle domande il pubblico ministero può farsi un'idea molto seria di chi è davanti ecco ah beh certo diciamo che molte cose le sa perché di solito ha il certificato penale di fronte sì però però non si sa mai ecco ah no no ci manca ci manca assolutamente ma poi cioè tutto quello che viene fatto durante l'interrogatorio poi viene preso anche in esame dopo cioè durante il processo durante il processo oppure rimane lì solo per come spesso accade la risposta e dipende ok dipende allora se l'imputato all'interno del processo chiede di essere interrogato all'interno del processo sì l'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari non viene prodotto ok ma può essere utilizzato sia dall'avvocato che dal pubblico ministero per fare delle domande ti faccio un esempio ok durante il processo tizio imputato di furto dice che quel giorno stava dormendo sì però due anni prima quando è stato interrogato dal pubblico ministero ha detto che quel giorno era a Milano e non a Torino ok quindi ci sono due versioni diverse di tizio e allora l'avvocato e il pubblico ministero chiedono a tizio ma scusi lei due anni fa ha detto che era a Milano oggi ci dice che invece era a Torino e dormiva qual è la versione giusta? ecco queste si chiamano contestazioni e servono al giudice per capire l'attendibilità della persona che è davanti ok se racconta la stessa verità raccontata nel corso dell'interrogatorio e quindi nessuno fa contestazioni allora diciamo così ha una parvenza di credibilità al di là dei riscontri poi che ci potrebbero sempre essere certo se invece due anni prima ha raccontato una verità alfa e adesso nel processo ci racconta una verità beta a questo punto anche il giudice dice va credo allora credo adesso o non gli credo per niente ecco ok e quindi è per quello che l'interrogatorio ogni tanto è controproducente perché cristallizza delle dichiarazioni rese magari nell'immediatezza dei fatti o cose del genere senza averci ben pensato e che poi è difficile rimangiarsi ecco ah no beh c'è ovvio eh sì mi dici ah no mi sono sbagliato ma come ricordavo due anni fa nell'immediatezza dei fatti lei ricordava una cosa e adesso me ricorda un'altra a distanza di tempo eh vaglielo a spiegare poi che è giusta la seconda sì non è facilissimo no però non è facilissimo no però particolare cioè non so perché ma sono curioso di assistere ad un interrogatorio sì ma non è niente di speciale almeno io nella vita ne ricordo due o tre particolari ok ricordo invece ricordo invece in modo molto fastidioso una riforma di tantissimi anni fa credo il primo governo Berlusconi non c'era nemmeno il nuovo tribunale a Torino c'erano ancora tanti uffici sparsi per la città e questa riforma prevedeva l'interrogatorio obbligatorio dell'indagato nel corso delle fasi delle indagini preliminari ah cosa succedeva io all'epoca ero un giovane giovanissimo avvocato e avevo le difese d'ufficio che sarebbero? cioè volentieri erano stranieri erano gente così che non poteva permettersi un avvocato ah ok gente che viveva in mezzo alla strada e tutto però dovevano fissare gli interrogatori e quindi tutti non dico ogni giorno ma due o tre volte alla settimana andavi in quest'ufficio diciamo così zona quadrilatero sì a fare degli interrogatori poi dopo un quarto d'ora 20 minuti che questo non arrivava perché magari non sapeva nemmeno dell'interrogatorio o magari non aveva capito quello che c'era scritto nell'avviso grazie a rivederci ci si salutava e buonanotte non era nemmeno un tempo in cui il cellulare era così diffuso quindi era difficile poi recuperare esatto e si perdevano veramente i pomeriggi io ricordo in via Bonelli via Bonelli è lì nel quadrilatero che c'era un ufficio di polizia giudiziaria dove fissavano sempre gli interrogatori spesso e volentieri si andava poi dopo un po' abbiamo imparato a telefonare prima ecco invece di aspettare tu facevi aspettare il cliente è arrivato sì allora arrivo anch'io eh no certo ecco non la sapevo questa cosa qua ora ora non è durato tanto poi ci sono resi conto che era una cavolata in mane perché allungava a dismisura i tempi processuali ingolfava tutta la procedura c'erano poliziotti, carabinieri che passavano le giornate a farsi interrogatori inutili voglio dire se io poliziotto ti vedo rubare una mela non è che devo interrogarti per sapere adesso faccio l'esempio no no certo però non è che devo interrogarti per sapere se tu quella mela l'avevi rubata o no ecco ti mando processo e buonanotte ok ok no è particolare anche questa cosa qua che era obbligatorio prima meno male che relativamente non lo è non lo è più adesso e quindi no non lo è più adesso ma è stato veramente per pochi mesi non so se ha fatto l'anno quella riforma maledetta però l'ha fatta proprio nel periodo in cui io ero ragazzino veramente avevo tante difese d'ufficio e così mi toccava andare a farsi interrogatori capitano queste cose qua ma però allo stesso tempo ho trovato all'epoca tantissimi clienti così ok perché ah bravo avvocato che sei venuto ah boh 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 forse volte ci vediamo in studio ah beh buono si inizia così almeno una volta si iniziava così adesso non lo so è relativamente buona allora questa cosa sarà dieci anni che non ho più la difesa d'ufficio quindi ok ok e anche quella magari non so se si riesce a fare un podcast ma sono curioso anche di capire come funziona la difesa d'ufficio sì certo 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 ogni tanto sai mentre parlando comunque le idee vengono no e quindi e quindi ci sta che andiamo a ma pensavo mi chiedessi della lampada in faccia con la luce accesa all'indagato no vabbè ma quelle allora c'è l'idea c'era anche di chiederti se poi relativamente sono previste anche delle torture chiamiamole così un po' in generale sai che però il codice di procedura penale disciplina il fatto che non si possono usare queste brutture perché dice che la persona sottoposta alle indagini nei suoi confronti in sede di interrogatorio non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti quindi cosa significa? che nel nostro ordinamento è vietato la lampada in faccia l'ipnosi è vietata il come si dice il pentotal il siero della verità tutti quegli aspetti che possono in qualche modo influire sulla libertà del soggetto di ricordare in modo autonomo un determinato fatto che lo riguarda ok no vabbè non te l'ho chiesta perché immaginavo che non si potesse fare sì però attenzione è vero che non si fa ma non si fa anche perché c'è un legislatore che ha pensato di dire che non si può fare ah ok non è per ecco è stato detto perché non si fa perché è stato detto non perché non è molto umano eh chi lo sa se non fosse stato detto cosa sarebbe successo eh no ma poi chi lo sa che non viene fatto ancora poi io non so se è veramente così sai noi vediamo i film americani negli Stati Uniti gli interrogatori ad esempio iniziano senza l'avvocato sì cosa da noi impensabile no? perché se il soggetto rende il soggetto diciamo indagato oppure che rende dichiarazioni confessorie no? la polizia o chi o i carabinieri che lo sentono dicono fermali tutto chiamiamo un avvocato ok tu non puoi parlare di fatti di reato che ti riguardano senza la presenza se non con la presenza di un avvocato ma succede abbastanza spesso eh no no ad esempio tu vieni sentito come persona sottoposta alle indagini no scusa diciamo testimone ah ok sì volevo proprio chiederti quello come testimone nel corso della tua audizione racconti delle cose incriminanti per te stesso l'audizione deve fermarsi ok no testimone insomma come ti dicevi no 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 quello cioè no no volevo proprio chiederti di questa cosa qua del testimone come viene interrogato mi l'hai appena detto certo ok ok non è interessante particolare magari poi andiamo a riprendere anche qualche qualche puntata di un giorno in pretura che ormai è diventato super famoso io non lo guardo mai no ma neanch'io a me capita andando sui social ogni tanto mi capita sempre lo stesso caso alla fine sì c'è il caso di Marina di Modica che è stupendo Marina di Modica sì forse Marina di Modica è uno dei casi giudiziari che a me è sempre più appassionato perché è uno dei pochi casi di condanna per omicidio senza il corpo molto molto interessante sì direi quindi mi segno anche questa che così almeno abbiamo abbiamo le idee per le prossime settimane non so se c'è altro da dire su questo argomento ah beh c'è quello che dice il codice ad esempio che dice che innanzitutto l'interrogatorio deve essere fatto nei confronti di una persona che anche se detenuta interviene libera all'interrogatorio salvo no per prevenire il pericolo di fuga di violenza il pericolo di fuga di solito non esiste la violenza invece sì ecco e quindi di solito però la regola è che interviene libera ok abbiamo detto sulla capacità di autodeterminarsi nel corso dell'interrogatorio quindi l'impossibilità di usare mezzi di coercizione sì poi ci sono tutta una serie di avvertimenti che la persona interrogata subisce innanzitutto che le sue quello famoso che le sue dichiarazioni potranno sempre utilizzate essere utilizzate nei suoi confronti sì una classica frase che io sento dire in tv però immagino che sia quella che si dice normalmente ma assolutamente perché io ti devo avvisare che se tu mi confessi che effettivamente hai rubato l'amelo il ciso tizio hai spacciato la droga beh quella è una confessione che vale come prova certo e poi l'interrogato viene avvisato anche del 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 fatto che se rende dichiarazioni su altre persone sì lui potrà essere chiamato a testimoniare su quei fatti ah ok quindi se tu dici sì io è vero ho rubato quella macchina e con me c'era Armando Francia no io posso essere chiamato a testimoniare no verrai a processo sia come imputato no sì sia nella tua chiamata di correo come si dice nei confronti del tuo complice ok allora lì diventa una bella un bel un bel giro viene fatto poi e quindi e poi ci sono le regole proprio dell'interrogatorio per cui l'autorizza giudiziaria contesta alla persona in forma chiara e precisa il fatto che le ha attribuito quindi ti interrogo per quel furto e non per quell'altro ti rende note gli elementi di prova guarda che ci sono sei persone che ti hanno visto rubare la macchina cosa vuoi dirci come per dire ti conviene confessare che magari ti prendi anche le generiche no sì e te la cavi meglio se invece mi dici che quel giorno appunto dormivi forse non fai una gran figura ok e quindi invita la persona ad esporre i fatti utili per la sua difesa ok ok e uno si rifiuta di rispondere cioè si avvale della facoltà di non rispondere allora a quel punto si fa il verbale di un minuto una riga dove si dice guarda io mi avvalgo della facoltà di non rispondere e quindi si va tutti a casa ok ok e beh anche questo è un bel un bel ramo poi succedono le cose più più strane io ricordo un fatto di tanti anni fa facciamo facciamo come le persone anziane che ricordano le cose passate e non quelle recenti per cui alla fine di un interrogatorio dove un signore era imputato di contraffazioni di marchi brevetti una cosa molto seria dove la persona offesa lamentava danni per 8 milioni di euro però il poliziotto alla fine mi fa avvocato il suo cliente spacciato e poi è stato assolto e quella è una grande soddisfazione ah ok così come ricordo una volta che sono andato a un interrogatorio per una persona e mi sono ritrovato il pubblico ministero e credo 6 o 7 poliziotti con due registratori sembrava veramente una roba di mafia mamma mia io che credevo fosse una roba piccolina invece ogni tanto e beh capitano quando meno te l'aspetti ti ritrovi poi e ogni tanto capitano e mi ricordo benissimo che era il pubblico ministero che poi è assurdo anche agli onori della cronaca un po' più avanti ok ok tanto noi non facciamo mai nomi quindi ma no non è caso no 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 per sicurezza per correttezza non li facciamo sempre bene allora c'è ancora da dire una cosiddetta solo per concludere l'argomento del diritto sarebbero tante cose da dire ma noi ne diciamo solo più una che è l'interrogatorio di garanzia allora abbiamo detto che l'interrogatorio non è un obbligo per l'autorità giudiziaria precedente cioè per il pubblico ministero ok nel senso che lui uno può essere portato davanti al giudice quindi a processo senza essere interrogato sì ok però però se a quella persona nel corso delle indagini preliminari gli applico una misura cautelare lo metto in carcere lo metto ai domiciliari quelle sono le misure cautelari il GIP cioè il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo l'obbligo di interrogare la persona ok proprio perché sta subendo un gravissimo pregiudizio tu pensi a una persona messa in carcere perché che ne so ha commesso una faccio per dire violenza sessuale sì e quindi è bene che un giudice lo senta immediatamente nel giro di pochi giorni diciamo così perché per affinché questa persona possa rendere delle dichiarazioni che evidentemente possono aiutarlo e quindi farlo liberare ad esempio dalla custodia cautelare in carcere o dagli arresti uccidiani ok questo è molto importante capita molto spesso dove appunto uno può spiegare il fatto circoscriverlo oppure fare grosse ragioni a sua discolpa e quindi essere immediatamente liberato ok ma adesso mi sono venute due domandine veloci una è che relativamente nell'interrogatorio poi vabbè si andrà dal giudice direttamente che c'è la sentenza finale danno già una mezza sentenza cioè c'è già l'idea comunque o no beh allora nell'interrogatorio durante le indagini preliminari se non c'è la confessione no ok no perché la prova ricercate in altro modo ecco ok e quindi quindi non c'è nulla di quello e l'altra adesso poi non voglio dire una boiata diciamo in maniera corretta io mi è capitato di sentire un po' di volte che poi è successo che il detenuto è roba varia in stato di infermità mentale roba varia si stabilisce anche già durante l'interrogatorio questa parte qua o no no nel senso che per stabilire se una persona era capace di intendere di volere al momento del fatto occorre una perizia ok fatta da uno psichiatra di solito e quindi nel corso dell'interrogatorio può capitare che arrivi uno psichiatra anche o no no il pubblico ministero sulla base delle risposte che ne so uno inizia a urlare a ridere come un matto a comportarsi in maniera diciamo non consona sì e allora il pubblico ministero e di solito l'avvocato che glielo dice guardi non ci sta tanto con le rotelle a posto e allora il pubblico ministero può chiedere una perizia per capire lo stato di mente quindi la capacità di intendere di volere del soggetto al momento del fatto e la sua capacità eventualmente di accontare il processo perché poi bisogna guardare anche quello ok perfetto piccole curiosità mi sono venute mentre dicevi le ultime cose chiediamole anche se magari però ecco dall'interrogatorio non è che il pubblico ministero o il poliziotto o il giudice può trarre di per sé un argomento per dire questo è incapace di intendere di volere no può trarre degli elementi dai quali chiamo uno psichiatra che fa una perizia e grazie alla perizia viene questo stato eventuale di mente viene accertato ok ottimo allora Armando siamo giunti alla fine anche di questa nuovissima puntata io ovviamente ti ringrazio ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo ci sentiamo settimana prossima perfetto buona giornata a te ciao 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 a tutti passiamo prendere il volo ai tuoi sogni sei su Radio Dreamoff Live ciao